Bella a tutti i ragazzi e oggi siamo su Clash Royale e ci facciamo... sì, ho sbloccato tante cose il stragone, i spiritelli del fuoco, la veleno, la funace, la tornado e qual è un altro? I pipistrelli, i pipistrelli ho sbloccato anche mi stavo per usire la leggendaria perché sono sfortunato c'è la voce un po' strana, questo è perché ho un po' mal di gola e sto a livello 7, arena 6, no 5 scusatemi scusatemi battaglia è un po' non forstona è un po' non è un po' non non so, non so, non so, non so, è un po' checcato anche bene cool Ops I love I love Oh my god La portiamo a casa Ma perché ieri ho fatto una sbattaglia Mi ha dato il baure magico E ora il baure d'oro Clastro Reale Grazie Gesù di Clastro Reale Ma non ho neanche Tre gemme È un crano abbastanza forte Scusate Ma questo non lo sapevo Che sono Alla prima posizione Sì Proviamo proviamo sto deck è una fortuna veramente è piange, piange è piange, piange è piange, piange è piange, piange è piange è piange, piange le dico grazie perché mi ha dato tre corone mi ha regalato tre corone e concludiamo il video qui perché è giusto da dieci minuti ciao a tutti ragazzi, ciao ciao ciao